La ragione perché ero sempre viva e sempre morta. E' diventato un lago il testo. Hai un miliardo di situazioni. La spalliera è 126. La manica poi arriva fino a qui e poi è stretta qua. Tu esci da lì. Questa è una maniera calda. La spalla è 136. Le mie creature non lo dico, però poi arriva subito il vuoto. Questo è per Picasso. E arriva per ultimo. Baccia con lui. Sta beccato. Sospendi la cocco. La roscia tra di noi. No, grazie. Mi sento a casa. Non so se ci conviene fare la rotonda o quadrata. L'avete vista in fiera voi? Si. Stanno arrivando come i vecchi tempi. Ma... Io dovevo assolutamente salvare i capelli. La febbre non deve togliere Inizia perché sennò sembra una bambina. Mi diceva che talento. Rideva. No, mi sfotteva. Ma che brava, ma che bambina prodigio, ma che puzza. E' un po' di scandirlo perché il balletto diventava la danza. La danza. E' questo. Io amo la musica per me stesso. Quell'inizio così preciso. E' figo. Che dopo è tutto il tempo di raccontare il personaggio e tutte le sue fature. Ma perché si fissano gli errori? E' uscire da un'altra. E' uscire da un'altra. E' finita dritta, dritta da dentro. Musica, musica. Vieni, vieni, vieni. La dico a puntare. La danza. Giusto adesso. No, il cocò, ma non essere noioso. Dai, non è così difficile. Ma non sei la signora dell'uovo. Fettolo. Primo bagno. Siamo riusciti a fare un lavoro che va bene. Sia visto da molto vicino, sia da molto lontano. Merito della grande poltrona. Guarda sì, facciamo paura. Va, 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 va. L'idea è che c'è un salone enorme. Mi sia sempre! Mi sia sempre! Mi. Grazie per la visione!